Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo delle pensioni di dicembre e vediamo chi avrà diritto al bonus natale ovvero i requisiti per l'ottenimento della tredicesima. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Datele continue richieste nei commenti dei nostri video facciamo il punto della situazione per quanto riguarda la tredicesima 2021 chiamata anche bonus natale. Per rientrare in questo pagamento aggiuntivo come sempre bisogna rispettare determinati requisiti e trattandosi di una mensilità aggiuntiva che viene pagata direttamente dall'Inps nell'ultimo mese dell'anno si parla proprio di bonus natalizio. Per le pensioni di dicembre 2021 tale somma corrisponde alla cifra di 154,94 euro e viene accreditata direttamente sul cedolino dall'Inps in maniera automatica tutti i percettori di pensione con importo basso. Il bonus natale spetta generalizzando i pensionati che sono soggetti incapienti. Come dicevamo a inizio video per ricevere la somma aggiuntiva di 154,94 euro bisogna rispettare determinati requisiti tra i quali quelli reddituali. Per le pensioni di dicembre 2021 per poter prendere il bonus di natale i limiti di reddito da rispettare sono i seguenti un reddito personale per il 2021 che non deve superare la soglia dei 10.053,81 euro mensili. Inoltre se il pensionato invece è coniugato allora il reddito complessivo includendo anche quello del partner non può superare la soglia dei 20.107,62 euro. Inoltre sulla pensione percepita l'importo annuale non deve essere superiore al valore del trattamento previdenziale minimo. Per quanto riguarda le pensioni di dicembre saranno pagate quasi certamente in anticipo per via della pandemia da covid-19. Dunque anche l'aggiunta dei 154,94 euro essendo legata alla pensione sarà pagata anche essa anticipatamente. E anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti. Grazie per l'attenzione al prossimo video.